Buongiorno a tutti, è un piacere salutarvi oggi dallo stand di Energy3000, sono Gabriele Rosso, da lunedì prenderò di nuovo piede in questa società, dopo tre anni rientro con una funzione che è quella della direzione vendite e l'obiettivo di questa mia presenza è quello di valorizzare ulteriormente un territorio come quello italiano che per l'azienda sta acquisendo sempre più importanza. Come vedete alle mie spalle lo stand oggi è gremito, c'è una presentazione, è una presenza importante sia sotto il profilo tecnico che sotto il profilo della partecipazione e sotto in particolare questo punto di vista credo sia importante oggi riflettere. Abbiamo soprattutto in Italia un momento in cui a fronte di tanti mesi di lavoro costante e impegnativo c'è stato un momento di rallentamento di quello che è il mercato, un momento di incertezza dovuto alle usuali problematiche normative e tecniche, quello che noi riteniamo veramente importante però con un orizzonte che guarda da qui al 2025 almeno è proprio quello di cercare di portare un valore aggiunto che non sia legato solo alle tematiche di prezzo, alle strategie legate alla tecnologia, allo sviluppo dei materiali ma soprattutto quello che un gruppo può fare per un proprio partner. Questo significa avere la disponibilità e la capacità di supportare tutti gli elementi che contribuiscono al buon risultato della realizzazione di un impianto, dalla parte progettuale, quella finanziaria, quella economica, il supporto logistico fondamentale, l'assistenza di back office, su tutto questo l'azienda spende enormi energie che solo oggi si traducono formalmente in questo stand e in questa grande presenza di InterSolar. Quello che però è importante è la presenza ogni giorno di fianco ai nostri partner e su questo verranno focalizzate tutte le nostre iniziative. Abbiamo ampliato la rete vendita italiana, abbiamo focalizzato ulteriormente le nostre procedure operative, stiamo mettendo in campo importanti risorse e soluzioni tecnologiche sia hardware che software e stiamo stringendo sempre di più i rapporti con i grandi produttori che da sempre ci accompagnano. In quest'ottica quindi il saluto e il benvenuto per chi ancora non è entrato nella nostra famiglia se vogliamo, è proprio l'occasione di rivolgere a tutti un invito a rivederci e a sentirci presto.